Un'area marginale rispetto al centro abitato. Da marzo scorso gli ambulanti del mercato settimanale di Alberobello sono fermi a causa dello spostamento, seppur temporaneo, per il contenimento dell'emergenza sanitaria della loro zona di lavoro in un'area periferica della città. Per questo, guidati da casambulanti, hanno incontrato i vertici della prefettura di Bari per trovare un punto d'incontro e risolvere al più presto questa situazione che ormai si protrae da mesi e vede la paralisi delle attività nella città dei Trulli. Soprattutto perché quella zona è stata individuata a luglio 2020 quando la condizione emergenziale pandemica era completamente diversa. Poiché la norma regionale dice espressamente che comunque il mercato poi deve tornare nella sua sede originaria, oggi essendo venute meno quelle condizioni precauzionali così emergenziali, appunto, siamo nella condizione di riportare il mercato nella sua sede tradizionale, in Largo Martellotta, in Piazza del Popolo. Vogliamo semplicemente applicare la norma. Peraltro ad Alberobello si stanno facendo tutte le manifestazioni, sono riprese le manifestazioni pubbliche proprio nel luogo dove si svolgeva il mercato, quindi riteniamo che sia una scelta doverosa e naturale.